Oroscopo settimanale dal 21 al 27 dicembre 2020 Ariete Amore, in questa settimana potreste risentirne molto in fatto di umore perché sarete particolarmente sensibili. Questo accadrà soprattutto agli inizi, quindi nei primi giorni. Se siete impegnati in un rapporto di coppia, la vostra dolce metà cercherà di farvi pesare meno la cosa e di tirarvi su. Sicuramente saranno queste belle attenzioni a farvi sentire meglio. Lavoro Occhio a come gestirete l'umore in questi giorni perché non sarete particolarmente forti e determinati. Qualcuno comunque cercherà di sostenervi per come possibile. Toro Amore Quanta confusione in questa settimana di dicembre. Che siate impegnati sentimentalmente oppure avete soltanto un'amicizia molto speciale, in questi giorni non sarete troppo convinti di tante cose. Avrete tanti pensieri per la testa e dunque anche molti dubbi. Sarà anche per questo motivo che agire o prendere una decisione si rivelerà abbastanza complicato. Lavoro Se avete intenzione di concentrarvi su qualche progetto professionale, delle volte sceglierete di fare qualche passo indietro. Ci sarà veramente poca decisione e poca determinazione. Gemelli Amore In questa settimana vi sentirete sicuramente molto più leggeri, eppure i pensieri si faranno più positivi. Sarà proprio per questo motivo che chi ha un partner al proprio fianco sceglierà di godersi al massimo le emozioni per vivere dei giorni in perfetto equilibrio ed in completa armonia. Una settimana per niente male per i nati sotto questo segno. Lavoro I compiti di lavoro verranno affrontati con ottimismo. Non farete una grande fatica, ma sicuramente cercherete di concentrarvi su tutte le cose che vi appassionano e che vi fanno stare bene. Cancro Amore In questi giorni dovrete fare una particolare attenzione a come vi esprimerete. Non sarete troppo bravi con le parole, eppure il vostro partner se ne accorgerà facilmente. Avere un discorso con la propria dolce metà non sarà affatto semplice, tanto che potrebbero nascere problemi e disagi nel rapporto di coppia. Capirsi e comprendersi potrebbe essere veramente difficile. Lavoro Occhio a come vi rivolgerete agli altri in queste giornate, perché nemmeno sul posto di lavoro potrete contare su una buona comunicazione. Cercare di pensare prima di dire qualcosa potrebbe senz'altro aiutare. Leone Amore Questa settimana di feste natalizie sarà incoraggiante e piacevole. Con il partner non dovrebbero esserci grandi novità. Certo è che se avete intenzione di fare passi in avanti, pure in una relazione dove ci sono stati problemi, niente e nessuno potrà farvi cambiare idea. Cercherete di seguire quello che vi suggerisce l'istinto, ma anche il vostro cuore. Lavoro È molto probabile che in questa settimana cambierete opinione su alcune cose e inizierete a guardare certe situazioni in maniera diversa. La voglia di fare non mancherà di certo, anzi, darete veramente molto per provare a raggiungere i vostri sogni nel cassetto. Vergine Amore Non saranno giorni troppo entusiasmanti, ma non ci saranno nemmeno grossi problemi per le relazioni e la sfera intima. La settimana dovrebbe proseguire in maniera tranquilla, senza grandi novità, ma probabilmente in modo un po' piatto. Andrete ad agio, sia con i pensieri che con le azioni. In amore, in fondo, non serve tanta fretta. Lavoro Potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo con qualche impegno professionale da dover affrontare. Nei progetti deciderete comunque di andare con calma, di non correre o esagerare in alcun modo. A volte potrebbe risultarvi un po' pesante. Bilancia Amore Nell'ultimo periodo le cose nel rapporto di coppia sono migliorate e avete recuperato un buon equilibrio. Il fatto è che in questa nuova settimana del mese qualcosa potrebbe nuovamente cambiare. Occhio perché potrebbe cambiare in maniera ancora più positiva. Se avete una persona importante al vostro fianco, sicuramente apprezzerà questo vostro atteggiamento. Lavoro Per le faccende di lavoro non ci saranno particolari novità in questi giorni. Potrete comunque contare su un umore per niente male. E se avete intenzione di realizzare un obiettivo, ci vorrà il giusto impegno. Scorpione Amore Questa sarà una settimana a tratti un po' ambigua. Se avete un partner oppure siete single, deciderete comunque di non dare troppo peso ai sentimenti, ma prendere ogni cosa con calma e serenità. Avrete voglia di godervi dei giorni tranquilli, prima di tutto con voi stessi. D'altronde sarà la settimana di Natale, per cui potrete concedervi un po' di leggerezza in più, anche se non sempre risulterà facile. Lavoro La voglia di impegnarsi e dare il massimo non si farà sentire troppo in questa lunga settimana. Anche in questo senso avrete il desiderio di prendervi del tempo per voi, per fare poco e riposarvi, soprattutto se avete affrontato un periodo più faticoso. Tagittario Amore In questa settimana di dicembre probabilmente non accadrà nulla di nuovo per le relazioni amorose. Il fatto è che in questi giorni sarete concentrati principalmente su alcune vicende professionali e la vostra attenzione sarà per cui dedicata ad altro. Non vuol dire che dovrete mettere in secondo piano i sentimenti e le emozioni. Lavoro Gli impegni saranno assai e voi sarete piuttosto in gamba. Cercherete di sistemare ogni compito con un ottimo assetto. Alla fine non sarà un grande problema svolgere tutto al meglio. Capricorno Amore Questi giorni di feste natalizie non saranno complicati per voi nati sotto questo segno. Per le questioni amorose non ci saranno grandi problemi, anzi. Senza troppi dubbi potrete godervi una settimana serena ed equilibrata insieme alla persona che amate e che avete al vostro fianco. Le energie più grandi sicuramente le concentrerete su qualche altro aspetto. Lavoro In questa settimana potrete provare a raggiungere alcuni dei vostri obiettivi professionali. Le soddisfazioni non mancheranno sul posto di lavoro e non potranno fare altro che incoraggiarvi. Questo significa che, con tutta probabilità, arriveranno importanti notizie pure per quanto riguarda il punto di vista finanziario. Acquario Amore Questi ultimi giorni di dicembre, in concomitanza con le feste di Natale, vi piaceranno e vi entusiasmeranno. Potrete facilmente contare sulle stelle, perché dovrebbe essere una settimana caratterizzata da un umore piuttosto buono. Per questo motivo saranno ovviamente agevolati tutti i rapporti di coppia, che non avranno grandi problemi da vivere. Lavoro Le energie non saranno per niente male, eppure non ci saranno grossi cambiamenti. Con i guadagni di lavoro, forse, vi lascerete andare allo shopping. Pesci Amore Con la vostra dolce metà, dovrete fare particolare attenzione. Forse, ultimamente, non siete sinceri come dovreste, e il partner potrebbe un po' risentirne. Dovrete cercare di essere onesti per il bene del vostro rapporto sentimentale. Anche perché il partner farà davvero di tutto per capirne di più. Ed altronde, non avrà tutto questo torto. Lavoro In queste giornate di dicembre, potreste avere alcune mancanze sul posto di lavoro. Questo tipo di comportamento, certamente, non può farvi troppo onore, e potrebbe avere alcune conseguenze. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. In queste giornate di dicembre, potreste avere alcune mancanze sul posto di lavoro.